Al mio fianco l'assessore alla mobilità e trasporti Silvana Gambuzza. Oggi lunedì, giorno di apertura delle scuole secondo il calendario regionale. Dal punto di vista dell'amministrazione, voi già come avete ottemperato il problema del flusso di studenti che arriveranno sia pendolari che quelli che dovranno necessitare appunto di prendere l'autobus per aggiungere gli istituti? Intanto buongiorno. Sì, la data è oggi per la Sicilia, il 16, però già parecchie scuole in autonomia hanno già aperto qualche giorno addietro. Noi siamo già pronti, stamattina sono partite le corse dell'Ast per gli studenti di Cassibile e Belvedere. Due corse a Cassibile e due a Belvedere che trasportano gli studenti nei vari istituti della nostra città. La novità di quest'anno è che già dal primo giorno che i ragazzi prendono l'autobus non pagheranno l'abbonamento. Già dal primo giorno i ragazzi avranno a disposizione gli autobus, due su Belvedere e due su Cassibile. Da Belvedere passerà anche l'autobus che proviene da Augusta e porterà gli studenti del liceo Gargallo a scuola perché l'anno scorso non c'era questo servizio e quindi erano sforniti del mezzo. Da quest'anno già dal primo giorno i ragazzi non pagheranno l'abbonamento, mostreranno il certificato che produrranno le scuole subito dopo, però non dovranno pagare la corsa dei giorni del mese di settembre. E quindi diciamo che con l'Ast abbiamo trovato questo accordo e siamo già a regime. Invece per quanto riguarda il piano urbano stiamo attendendo dall'Ast una proposta organizzativa. Noi abbiamo chiesto delle corse essenziali per collegare tutte le parti della città, per collegare l'isola Mazzarrona, Pizzuta, poche corse ma certe. Loro dovranno darci degli orari che dovranno rigorosamente rispettare. Pochissime corse però noi dobbiamo dire al vecchietto che sta a Mazzarrona che alle 10 passa l'autobus e alle 12 potrà rientrare a casa con delle certezze, così in modo tale da non lasciare la gente ad aspettare per ore e ore come è successo sinora. Un altro problema è stato quello sollevato dall'ex candidato sindaco Ezechie Reale, è stato quello della chiusura dei tribunali e quindi dei grandi flussi di traffico che arriveranno nella zona di Santa Panagia. L'avvocato Reale ha anche parlato della questione del parcheggio di via Mazzanti, dicendo che è una delle tante compiute che ci sono nella nostra città. Lei ha anche il ruolo di essere al comando dei vigili urbani. Come sta affrontando col corpo dei vigili urbani il problema della mobilità nella zona di via Santa Panagia? Sì, noi già abbiamo predisposto un piano. Da lunedì ci saranno due pattuglie dei vigili urbani, una all'inizio di via Le Santa Panagia e una all'incrocio con via Augusta, così un po' da regolamentare il traffico. Ho dimenticato di dire che già da oggi tutte le scuole, parlo di istituti comprensivi, avranno la figura del vigilo urbano. Infatti è stato predisposto un piano orario. Dalle 8.15 alle 8.40 ci sarà la figura di un vigilo urbano davanti a tutti gli istituti comprensivi. Inoltre abbiamo la collaborazione degli Angeli Senza Leali, che è una cooperativa di diversabili che collaborano con la Polizia Municipale, che saranno vigili davanti alle scuole, sia all'ingresso che all'uscita. Senta, tornando un attimo sulla questione del trasporto pubblico. Durante la campagna elettorale si parla del fatto che una città, come Siracusa, ad alta vocazione turistica, era appunto incresciuto il fatto che non avesse una linea che collegasse Ortigia col parco della Neapolis. Anche su quel fronte le chiedo, state provvedendo? Uno, due, la questione navette per la ZTL in Ortigia? Sono strettamente legata alla questione. Abbiamo già fatto un preventivo per risistemare le sei navette elettriche che abbiamo in giacenza in deposito. Speriamo, entro la fine dell'anno, di averle pronte. Non appena saranno pronte, queste navette saranno utilizzate. Quattro per Ortigia, sicuramente. Una è il collegamento dal parco della Neapolis a Ortigia e una la impiegheremo per vari servizi, come il cimitero o collegamenti con l'isola. Grazie. Grazie.